ok august continua a raccontare capitolo il segreto di via un paio di giorni dopo la fine delle vacanze di primavera la mamma ha scoperto che via non le aveva detto di una certa recita scolastica che ci sarebbe stata al suo liceo la settimana seguente e la mamma si è arrabbiata un sacco la mamma non si arrabbia mai così anche se papà ha un'altra opinione ma con via si è infuriata davvero tantissimo hanno fatto una lite che non finiva più e le mie orecchie bioniche da robot non sono riuscite a sentire la mamma che diceva si può sapere che cosa ti sta succedendo ultimamente via sei lunatica e taciturna e non racconti più niente che c'è di tanto sbagliato se non ti dico di una stupida recita via stava praticamente urlando non devo recitare nemmeno una battuta io il tuo ragazzo sì però non ti interessa che vediamo lui no veramente no smettila di urlare sei tu che hai cominciato lasciami in pace ok sei stata così brava a lasciarmi in pace per tutta la mia vita finora non capisco perché hai scelto proprio il liceo per cominciare a interessarti di dopo non so che cosa le abbia risposto la mamma perché tutto è diventato improvvisamente silenzioso e persino le mie orecchie bioniche da robot non riuscivano a rilevare un segnale la mia caverna per ora di cena sembravano essersi chiarite papà lavorava fino a tardi desi stava dormendo avevo vomitato un bel po prima quel giorno e la mamma aveva preso un appuntamento per portarla dal veterinario il mattino dopo eravamo seduti tutti e tre e nessuno parlava alla fine ho detto allora andiamo a vedere justin alla recita via non ha risposto ma abbassato gli occhi sul piatto sai oghi mi ha detto piano la mamma non avevo capito che genere di spettacolo fosse e non è davvero una cosa che potrebbe interessare un ragazzino della tua età vuoi dire che non sono invitato ho fatto io guardando via non ho detto questo ha ribattuto la mamma solo non penso che ti divertiresti ti annoieresti un sacco ha insistito via come se mi stesse accusando di qualcosa ma tu e papà ci andate ci andrà papà ha risposto la mamma io resto a casa con te che cosa ha strellato via in faccia la mamma oh fantastico è così che mi punirai per essere stata sincera con te non venendo allo spettacolo all'inizio non volevi nemmeno che ci venissimo ricordi ha risposto la mamma ma adesso che sai il motivo certo che voglio che ci vieni ha esclamato via beh devo tenere conto dei sentimenti di tutti qui via ha detto la mamma si può sapere di che cosa state parlando ho strellato di niente sono sbottate tutte e due all'unisono è soltanto una cosa della scuola di via che non ha niente a che vedere con te ha detto la mamma stai mentendo ho detto io scusami ha fatto la mamma tipo sconvolta persino via sembrava sorpresa ho detto che stai mentendo ho gredato è una bugia ho strillato in faccia via alzandomi siete bugiarde tutte e due mi state raccontando un mucchio di bugie come se fossi un idiota siediti oghi mi ha ordinato la mamma prendendomi per un braccio mi sono divincolato e ho puntato il dito contro via credi che non lo sappia che cosa sta succedendo ho strillato è solo che non vuoi che nel tuo fantastico nuovo liceo gli amici sappiano che hai un fratello mostro oghi ha urlato la mamma non è vero smettila di mentirmi mamma ho gridato smettila di trattarmi come un poppante non sono ritardato capisco quello che succede mi sono precipitato in corridoio e di lì in camera mia sbattendomi la porta dietro le spalle così forte che ho sentito letteralmente pezzettini di muro sbriciolarsi dentro l'intelaiatura poi mi sono lasciato crollare sul letto mi sono tirato sulle coperte fino al mento mi sono ammucchiato tutti i cuscini sopra la mia faccia disgustosa e poi ho impilato anche tutti gli animali di peluche sopra i cuscini come se fossi dentro una piccola caverna e se avessi potuto andarmene in giro tutto il tempo con un cuscino sulla faccia lo avrei fatto non so nemmeno come ho fatto ad arrabbiarmi tanto non ero veramente arrabbiato all'inizio della cena e neanche triste ma poi di colpo tutto è come esploso fuori di me sapevo che via non voleva che andasse al suo stupido spettacolo e sapevo anche il perché mi ero immaginato che la mamma mi avrebbe seguito subito in camera mia e invece non l'ha fatto volevo che mi trovasse sepolto dentro la mia caverna di animali di peluche così ho aspettato un altro po' ma addirittura dopo dieci minuti lei non si era ancora fatta vedere ero piuttosto sorpreso viene sempre a controllare quando mi chiudo in camera sconvolto per qualcosa o roba del genere mi sono visto la mamma e via che parlavano di me in cucina io ho immaginato che via dovesse sentirsi molto ma molto male ho pensato che la mamma fosse sopraffatta dal senso di colpa e anche il papà si sarebbe infuriato con lei una volta tornato dal lavoro ho scavato un buchino fra la pila di cuscini animali di peluche ho dato una sbirciatina all'orologio appeso alla parete era trascorsa mezz'ora e la mamma ancora non era apparsa in camera mia ho cercato di sentire i rumori che provenivano dalle altre stanze stavano ancora cenando che cosa stava succedendo finalmente la porta si è aperta era via non si è curata di venire verso il mio letto e non è entrata piano come pensavo avrebbe fatto è arrivata come una furia addio Oggi ha detto via vieni sbrigati la mamma vuole parlarti non ho intenzione di chiedere scusa non c'entri tu ha strillato non è che ogni cosa del mondo deve per forza girare intorno a te Oggi adesso muoviti Desi sta male la mamma la sta portando alla clinica veterinaria vieni a salutarla ho buttato via i cuscini dalla faccia e l'ho guardata è stata lì che mi sono accorto che piangeva che intendi dire con salutarla vieni ha detto tenendomi una mano l'ho presa per mano e l'ho seguita giù per il corridoio fino in cucina Desi era sdraiata di lato sul pavimento con le zampe dritte davanti a lei ansimava forte come se avesse fatto una corsa al parco la mamma era inginocchiata accanto a lei e le accarezzava la testa cos'è successo? ho chiesto di colpo ha cominciato a guaiere mi ha spiegato via inginocchiandosi vicino alla mamma ho abbassato gli occhi sulla mamma stava piangendo anche lei la porto all'ospedale degli animali in centro ha detto il taxi sta per arrivare ma il veterinario ha detto che la rimetterà in sesto giusto? ho chiesto io la mamma mi ha guardato lo spero tesoro ha risposto piano ma sinceramente non lo so ma certo che sì ho insistito Desi è stata male spesso ultimamente Ogghi ed è vecchia ma loro possono farla guarire ho ribadito guardando via in cerca della sua approvazione invece via non ha nemmeno alzato la testa alla mamma tremavano le labbra credo che potrebbe essere arrivato il momento di dire addio a Desi Ogghi mi dispiace no! ho gridato non vogliamo che soffra Ogghi ha detto la mamma è squillato il telefono via ha risposto ha detto ok grazie e ha riattaccato il taxi è fuori ha giunto asciugandosi le lacrime con il dorso delle mani bene Ogghi mi apri la porta tesoro ha detto la mamma prendendo in braccio Desi molto delicatamente come se fosse un grosso bambino addormentato ti prego no mamma ho detto piangendo parandomi davanti alla porta tesoro per piacere ha detto la mamma è molto pesante il papà ho gridato mi raggiunge all'ospedale ha risposto la mamma non vuole che Desi soffra Ogghi via mi ha scansato dalla porta e l'ha tenuta aperta la mamma ho il cellulare acceso se avete bisogno di qualcosa ha detto la mamma via puoi coprirla con la coperta via ha fatto segno di sì con la testa ma stava piangendo disperatamente adesso salutate Desi ragazzi ha detto la mamma con le lacrime che le rigavano la faccia ti voglio bene Desi ha detto via baciandola sul muso ti voglio tantissimo bene ciao bella ho sussurrato all'orecchio di Desi ti voglio bene la mamma l'ha portata giù dai gradini della veranda l'autista del taxi aveva aperto la portiera posteriore siamo rimasti a guardarla mentre saliva in macchina un istante prima di richiudere lo sportello la mamma ha alzato gli occhi su di noi fermi davanti alla porta di casa e ci ha fatto un piccolo cenno di saluto con la mamma mano non credo di averla mai vista più triste di così ti voglio bene mamma ha gridato via ti voglio bene mamma ho detto anch'io mi dispiace mamma la mamma ci ha soffiato un bacio e ha chiuso la portiera l'abbiamo guardata a partire poi via ha richiuso la porta di casa mi ha guardato un secondo poi mi ha abbracciato fortissimo e tutti e due abbiamo versato un milione di lacrime i giocattoli di desi justin è venuto da noi circa mezz'ora dopo mi ha abbracciato forte e mi ha detto mi dispiace oghi tutti e tre ci siamo seduti in soggiorno senza dire nulla per una qualche ragione io e via avevamo raccolto tutti i giocattoli di desi scarsi per casa li avevamo ammucchiati vicino al tavolino della sala adesso non sapevamo fare altro che fissare quel mucchietto è veramente il cane più fantastico del mondo ha detto via lo so ha detto justin sfregando la schiena di via ha solo cominciato a guarire così di punto in bianco ho chiesto via annuito tipo due secondi dopo che ti sei alzato dal tavolo ha detto la mamma stava venendo da te ma desi ha cominciato come a piagnucolare piagnucolare come ho chiesto piagnucolare basta non so ha risposto via tipo che ululava ho insistito tipo che guaiva oghi è sbottata ha semplicemente iniziato a lamentarsi come se qualcosa le facesse molto male e ansimava in maniera folle e dopo si è come accasciata e la mamma si è chinata su di lei ha cercato di metterla in piedi tipo ma era evidente che le faceva male qualcosa l'ha persino morsicata che ho fatto io quando la mamma ha cercato di toccarle la pancia desi le ha morsicato la mano ha spiegato via ma desi non morsica mai nessuno ho risposto non era lei è intervenuto justin evidentemente aveva male da qualche parte papà aveva ragione ha detto via non avremmo dovuto permettere che arrivasse a stare tanto male che vuoi dire ho chiesto lui sapeva che era malata la mamma l'ha portata dal veterinario tipo tre volte negli ultimi mesi oghi non faceva che vomitare a destra a sinistra non te ne sei accorto ma non sapevo che fosse ammalata via non ha detto niente ma mi ha messo un braccio intorno alle spalle mi ha tirato vicino a sé ho cominciato a piangere mi dispiace oghi ha detto piano mi dispiace tanto per tutto va bene mi perdoni lo sai quanto ti voglio bene vero ho annuito in un modo o nell'altro la nostra lite non aveva più tanta importanza ma la mamma sanguinava ho chiesto è stato solo un morsetto ha risposto via proprio qui ha indicato la base del pollice per farmi vedere esattamente in che punto Desi l'aveva morsicata le faceva male la mamma è a posto oghi sta bene mamma e papà sono arrivati a casa due ore più tardi abbiamo capito nell'attimo stesso in cui hanno aperto la porta e Desi non era con loro che se ne era andata per sempre ci siamo seduti tutti in soggiorno intorno al mucchietto dei suoi giocattoli papà ci ha raccontato quel che era successo alla clinica veterinaria come il medico avesse portato Desi a fare alcune radiografie ed esami del sangue poi era tornato e aveva spiegato loro che il cane aveva una grossa massa nello stomaco faceva fatica a respirare mamma e papà non volevano che soffrisse perciò papà l'aveva presa in braccio come gli piaceva fare sempre con le zampe dritte per aria e lui e la mamma l'avevano baciato dicendole addio infinite volte sussurrandole perché il veterinario le avrebbe infilato un ago nella zampa e poi dopo circa un minuto Desi era morta fra le braccia di papà era così tranquilla detto papà non aveva più male da nessuna parte come se si fosse addormentata un paio di volte mentre parlava la voce di papà si è increnata e ha dovuto schiarirsi la gola non ho mai visto papà piangere prima ma l'ho visto piangere stasera ero andato in camera loro a cercare la mamma perché mi disse la buonanotte quando ho visto papà seduto sul bordo del letto che si stava togliendo le calze voltava la schiena alla porta perché non sapeva che fossi lì perciò non sapeva all'inizio ho pensato che stesse ridendo perché le spalle gli sussultavano ma poi si è portato le mani sugli occhi e ho capito che stava singhiozzando era il pianto più silenzioso che avessi mai sentito come un bisbiglio avrei voluto andare da lui ma poi ho pensato che forse piangeva sotto voce perché non voleva che io o qualcun altro lo sentissimo quindi mi sono allontanato sono andata in camera di via e ho visto la mamma sdraiata vicino a lei sul letto e la mamma stava sussurrando qualcosa all'orecchio di via che stava piangendo così sono andato nel mio letto mi sono infilato il pigiama senza che nessuno mi dicesse di farlo ho acceso la lucina della notte mi sono raggomitolato tutto dentro la montagnetta di animali di peluche che avevo lasciato lì da prima mi sembrava che tutto fosse successo un milione di anni prima mi sono tolto gli apparecchi acustici mi sono tirato le coperte fin sopra le orecchie e ho immaginato Daisy che si faceva il suo spaziettino vicino a me la grossa lingua umida che mi leccava tutta la faccia come se fosse stata la faccia che preferiva il mondo ed è in quel modo che mi sono addormentato